Porta mappa DEFCON 5 in cordura, disegno multicam, dimetismo multicam, apertura moschettoncino, cordura milleden, molto molto solida e resistente, interno dvc trasparente, doppio foro per agganciarlo con eventuale paracord, cerniera lampo, una facile introduzione delle carte da voi utilizzate, sia che esse siano mappe militari o cartine civili, cerniera chiudibile, facilmente chiudibile anche il portamappa stesso, si ripiega su se stesso e si riduce al minimo. Sul retro notiamo due moschettoncini, due anelli in materiale termoplastico molto resistenti per agganciarlo ed gli attacchi molle, agganciabili facilmente a incastro, per metterlo sul cinturone o sul direttattico, sullo zainetto, ovunque voi vogliate. C'è anche una solina per legare la mappa una volta aperta, questa piccola solina che è passante, per legarla eventualmente con un paracord o per legare un'eventuale penna.